Dopo la proclamazione degli eletti si spalancano le porte per l'assessorato ad Andrea Gerosolimo. Il dubbio era legato al numero dei consiglieri regionali di Abruzzo Civico. Se nello schieramento di Giulio Borrelli fosse stato eletto solo Gerosolimo, difficilmente avrebbe potuto lasciare i banchi del Consiglio per sedere in quelli della Giunta. Il rischio che ad Abruzzo Civico potesse andare solo un seggio era legato alla presenza di 11 consiglieri del PD e anche alla possibilità di attribuzione di due consiglieri all'altra lista d'Alfonsiana Regione Facile. Ad Abruzzo Civico sono andati invece due seggi, Andrea Gerosolimo per la circoscrizione aquilana e per quella di Chieti, Mario Olivieri e per Regione Facile è stato eletto solo Lorenzo Berardinetti. Le condizioni determinate si permetteranno a Gerosolimo di essere nominato assessore dell'esecutivo di Luciano D'Alfonso. Si tratta di un risultato straordinario per Gerosolimo e per Abruzzo Civico che diventa la seconda forza della coalizione di centrosinistra in consiglio regionale dietro il Partito Democratico. La lista di Borrelli è stata infatti l'unica ad aver conquistato due seggi rispetto a SEL, all'IDV e ai due raggruppamenti civici Regione Facile e Centro Democratico che ottengono invece soltanto un eletto a testa. Ecco il nuovo consiglio regionale abruzzese proclamato dopo 17 giorni dalle elezioni del maggio scorso. Sulla base delle deliberazioni dell'ufficio centrale elettorale risultano eletti in provincia di Chieti per il Partito Democratico Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro e Antonio Inaurato, per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, per Forza Italia Mauro Febbo, per Abruzzo Civico Mario Olivieri, per l'Italia dei Valori Lucrezio Paolini. In provincia dell'Aquila per il PD Pierpaolo Pietrucci e Giuseppe Di Pangrazio, per il Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri, per Forza Italia Emilio Iampieri, per Abruzzo Civico Andrea Gerosolimo, per Regione Facile Lorenzo Berardinetti, per il Centro Democratico Maurizio Di Nicola, in provincia di Pescara per il PD Donato Di Matteo, Alberto Balducci e Marinella Sclocco, per il Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari e Leandro Bracco, per Forza Italia Lorenzo Sospiri, per Sinistra Ecologia e Libertà Mario Mazzocca, in provincia di Teramo, per il PD Dino Pepe, Sandro Mariani e Donato Monticelli, per il Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, per Forza Italia Paolo Gatti, per il nuovo centrodestra Giorgio D'Ignazio, per Abruzzo Futuro Mauro Di Dalmazio. A questi 29 vanno aggiunti i consiglieri di diritto Luciano D'Alfonso, presidente dell'Aggiunta regionale, e Gianni Chiodi, secondo candidato presidente più votato. Si attende ora da parte del governatore Luciano D'Alfonso la nomina dell'Aggiunta. Nel frattempo spuntano alcune indiscrezioni riguardanti il capogruppo uscente del PD, Camillo D'Alessandro, che dovrebbe ricevere l'incarico di sottosegretario alla presidenza con compiti politici e non tecnici. Ciò spianerebbe la strada a Giuseppe Di Pangrazio verso la presidenza del Consiglio.